Ciao a tutti, come conquistare l'amore di un uomo? Allora, prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come conquistare l'amore di un uomo? Allora, le donne devono sapere alcune cose se vogliono conquistare l'amore di un uomo. La prima è saper gestire accuratamente il desiderio e il possesso, cioè quanto devono essere disponibili. Questo non è un... non c'è un cliché, diciamo, come dire, che va bene per tutti gli uomini. Devi imparare a calibrarti, quindi la cosa fondamentale è imparare a calibrarsi su quell'uomo, su quell'uomo specifico, perché ogni persona, ogni uomo quindi anche, ha delle, come dire, esigenze, tra virgolette, emotive diverse. Quindi è importante imparare a calibrarsi proprio su quella persona, quindi capire quanto devi tirare l'accordo. Ovviamente farsi desiderare è importante, ma non puoi esagerare nello stimolare desiderio, perché se esageri nello stimolare desiderio viene meno il possesso, cioè è un decadimento, cioè hai crei quello che viene chiamato un cortocircuito, cioè la persona pur magari essendo coinvolta si sgancia. Quindi è importante tenere presente questo, no? Che per conquistare bisogna conquistare tutte le sfere dell'uomo, insomma, che sono una sfera logica e una sfera emozionale, perché la sfera logica vuole quello che è istituzionale, diciamo. Quindi questo è molto basato sulla cultura dell'uomo, la capacità di una seduttrice è quella di capire quali sono i valori profondi, quali sono le credenze profonde, e intanto capire se queste credenze, questi valori vanno bene a lei, perché non è che devi conquistare una persona a tutti i costi se poi non ti va bene. Quindi capire se questi desideri, questi valori, queste credenze, i valori cosa sono? Sono quello che per noi è importante. Ciò che per noi è importante è un valore, ciò che per noi non è importante non è un valore, diciamo così, no? Quindi questo è importante, fondamentale capirlo, perché se noi riusciamo a comprendere questo non abbiamo possibilità, insomma, di ottenere dei risultati da questo punto di vista. Quindi rischi di sedurre proprio, conquistare una persona che poi alla fine si rivelerà sbagliata per te. Quindi non è che va sedotta a tutti i costi oppure conquistata a tutti i costi una persona. Se uno vuole conquistare per realizzare, per costruire una relazione che possa durare nel tempo, deve capire se va bene. E una persona va bene se crede più o meno le stesse cose che credi tu, se ha più o meno gli stessi valori, cioè ciò che è importante per te è anche importante per lui. Questo è fondamentale. E diciamo ci sono delle affinità, le somiglianze, delle passioni in comune, degli interessi in comune. Non devono essere in totale, diciamo così, accordo. Però diciamo che almeno al 70% su 100, cioè ci devono essere, altrimenti diventerà una relazione sterile. A meno che uno non voglia proprio aprirsi e esplorare mondi diversi. Questo è anche possibile, ma dipende molto anche dall'età. Cioè due persone che, come dire, a 20 anni, 25 anni, sono ancora anche da un certo punto di vista aperti a variare molto le cose. A 50 anni, a 40 anni, 50, 60 anni, beh, insomma, tu hai già definito, quello hai già consolidato. Andare a sgretolare il tutto diventa più difficile, anche se poi nella vita capitano degli tsunami che stravolgono completamente la tua vita. Però questi andrebbero evitati, perché l'innamoramento non gestito, non controllato, andrebbe sempre evitato. Quindi, una volta che hai capito che questi valori sono simili comunque ai tuoi o ti vanno bene, è bene ricalcarli, rimarcare questo fatto. Quindi, perché questo va a conquistare tutta la parte logico-cognitiva della persona. Insomma, da un punto di vista del ragionamento, ti vedrà come la donna giusta. Questo vuol dire anche, anche se non è facile, magari sempre, cercare di allinearti a quello che lui crede che sia la donna giusta per lui. Quindi, nel modo di comportarsi, nell'abbigliamento, nel look, in tante cose, insomma. Questo è importante. Poi è importante anche condividere delle emozioni positive. Un modo semplice per condividere delle emozioni positive è ridere, ridere di cose comuni. Cioè, generare gioia e questo, ecco, condividere la gioia, condividere episodi di gioia, fa, diciamo, fa molto, genera un'emotività e coinvolge, seduce, è inevitabile questo. Poi è anche importante, diciamo, mettere in atto alcune piccole strategie. Da un lato complimentare, perché i complimenti possono servire, ma dall'altro magari analogicamente mettere, analogicamente, non logicamente, mettere qualche vincolo, qualche condizione. Insomma, generare, andare a stimolare emotività. Andare a stimolare emotività, questo può, è molto importante. Anche capire, appunto, quanto devi, quanto devi fare, che cosa devi fare per conquistare, esattamente. Quindi generare emotività vuol dire magari fare piccole fughe, piccoli allontanamenti, dare e togliere un po' di presenza, in alcuni casi. E generare mistero. Generare mistero vuol dire che tutte queste sono tutte cose che danno emozioni, è molto importante. Perché se tu riesci a fare questo, riesci piano piano a conquistare. Ma per farlo serve a mantenere, riuscire a mantenere veramente un distacco del risultato. Cioè non essere lì impaurita, perché se sei lì impaurita, hai poche possibilità di riuscire a conquistare, insomma, la persona che desideri. Quindi il distacco del risultato è fondamentale. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale. Felicità, benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.